Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad Attenzi al Lupo. Questa sera parliamo di case. Davvero c'è stato un risveglio del mercato immobiliare, come qualcuno dice, gli ultimi dati, gli ultimi indicatori e soprattutto in un momento di difficoltà, perché continuano le difficoltà. Ci sono delle vere alternative ai classici contratti di compravendita, perché ce ne sono tanti oggi sul mercato. Ne parleremo questa sera cercando di spiegare tutto a voi che state a casa e che magari avete intenzione di vendere o di acquistare una casa. Ma come sempre partiamo da una lettera che ci avete scritto da casa e salutiamo Melania. Buonasera Melania. Buonasera a te Giuseppe, un saluto ai nostri telespettatori. Come sempre infatti da una segnalazione di un telespettatore partiamo di un nostro attento telespettatore. Cari amici di Attenzi al Lupo, ho sentito che tra le novità della legge di stabilità ce n'è anche una in campo immobiliare che permetterebbe di vendere parte della propria casa, incassare il corrispettivo, senza però perdere del tutto la proprietà che in futuro potrebbe essere riscattata dai figli se interessati. Viste le difficoltà di arrivare a fine mese con la mia pensione, mi sembra interessante, ma non ho capito bene come funziona. Mi aiutate a fare chiarezza? Chi può utilizzare questo strumento? Quali sono le conseguenze per i figli? Queste quindi le domande che ci pone questa sera il signor Giovanni, che ci scrive da Ascoli Piceno, ma magari sono domande che condividete anche voi da casa. Se allora è così, cominciate a partecipare attivamente alla nostra trasmissione. Il nostro numero verde è 805 08 990. Presentiamo i nostri esperti e li ringraziamo, il presidente della FIAIP, la Federazione Irliana degli Agenti Immobiliari, Paolo Righi, buonasera, presidente, e il segretario nazionale di Consum, Renato Calì. Segretario, buonasera. Buonasera. Allora, diamo subito una risposta, poi entreremo proprio nei meccanismi particolari, soprattutto da voi voglio capire se davvero queste case che ognuno di noi ha, chi in affitto, chi di proprietà, insomma, stanno nuovamente salendo i prezzi, cioè il valore delle case. Ma chiedo al presidente, è vero questo che c'è nella legge di stabilità? Come si chiama questo provvedimento? Ed è utile? Allora, il provvedimento si chiama prestito vitalizio. Ogni persona che ha più di 60 anni, se ha la piena proprietà del proprio immobile, può recarsi presso una banca e chiedere un prestito, mantenendo la proprietà della casa. La banca mette ipoteca di primo grado e concede una somma. Questa somma può essere restituita alla banca a rate, diciamo, concordando come un mutuo, come se fosse un mutuo, e altrimenti senza nessun tipo di rata, fino alla morte del proprietario. Alla morte del proprietario cosa accade? La banca può vendere l'immobile se gli eredi non accettano di comprare, di pagare il debito residuo e quanto pagato dalla banca e dato al decuyus. Contestiamo molto questa cosa per vari motivi. Il nostro giudizio è negativo perché si sostituisce, prima di tutto, la nuda proprietà. La signora, se ha un problema, ad esempio, può mettere in vendita la nuda proprietà del suo immobile e stare dentro all'appartamento, ricevere i soldi, e stare dentro all'appartamento fino alla sua morte, senza nessun tipo di problema. In questo caso, invece, del prestito vitalizio, la somma che concede la banca è molto inferiore al valore dell'appartamento, perché è come un mutuo, quindi potrà concedere il 30-40% in base all'età della signora. Quindi il rischio è che la signora finisca i suoi soldi in anticipo, sperando che viva a lungo, appunto, che spenda i suoi soldi in anticipo, e che poi non riesca poi ad onorare questo debito e quindi perda l'appartamento. E tra pochissimo sentiremo un altro parere che abbiamo sentito, che invece è favorevole, abbiamo sentito i piccoli proprietari immobiliari. La vostra posizione è comunque critica nei confronti di questo provvedimento? È un provvedimento nato su condizioni giuste, ma fatto malissimo, e potremmo dire che è un favore alle banche. Ecco, il favore alle banche. I consumatori, la di Consum, segretario, il vostro giudizio su questa opportunità, diciamo? Assolutamente critico, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale. Dal punto di vista economico, per le cose che diceva, quindi non ripeto, il presidente, il dottor Righi di Fiaip. Dal punto di vista culturale, quindi, come dire, si inverte una logica di mercato. La casa è sempre stato un bene rifugio. È sempre stato qualcosa da trasmettere culturalmente, come dire, all'interno di una famiglia. Se si mette del mercato, solo perché bisogna rispondere a una domanda che nasce dalla crisi, una domanda di povertà crescente. Non sono quelli i modi per far recuperare il reddito a chi è in difficoltà dal punto di vista economico. Quindi sicuramente è un modo che va rivisto e probabilmente vanno privilegiate altre strade, ma avremo, credo, durante l'asmesso tempo di poter approfondire. Ne parleremo, ma vi facciamo vedere. Prima diamo i nostri recapiti, perché voi siete attenti a casa come sempre. Insomma, ci potete, siamo in diretto, lo ricordiamo sempre. Vero, Melania? E poi vediamo il servizio. Esatto, i nostri contatti, i contatti di casa nostra sono numeroverde 800 508 990, vi ricordo che è gratuito anche per i cellulari. Coloro trovate occupato, come è probabile, lasciate pure il messaggio in segreteria. E poi email, attentiallupochiocciolatv2000.it e ovviamente siamo presenti e attivi anche sui social, anche questa sera, quindi Facebook e Twitter. Basta digitare il nome della nostra trasmissione e ci troverete. E allora, su questo strumento, cui hanno parlato i nostri ospiti di studio, abbiamo chiesto anche il parere ai piccoli proprietari immobiliari. Vediamo che cosa ci dicono. Innanzitutto dobbiamo sempre dire che è un finanziamento. Quindi, come tutti i finanziamenti, comporta sempre un problema legato agli interessi che si maturano anno per anno. Perché questo è uno dei pochi accordi o contratti, come noi vogliamo chiamarli, che prevedono ancora, ahimè, l'anatocismo. Cioè, vale a dire, il pagamento degli interessi sugli interessi. Questo può essere evitato, però, questo pagamento dell'anatocismo da parte del sottoscrittore o del fruitore, allorquando con una deroga al decreto può pagare solamente gli interessi anno per anno e mantenere la sorte, cioè quello che ha effettivamente avuto come prestito ipotecario fino alla dipartita. L'elemento positivo è che adesso l'ultra sessantenne che fa questa richiesta può anche pagare anticipatamente rispetto a quello che prima invece si prevedeva come effettivamente un'estinzione di un debito fatto dagli eredi. Questa tipologia a chi può interessare maggiormente, a chi lei lo suggerirebbe? Beh, può interessare a chi innanzitutto vuole mantenere la proprietà dell'immobile, cosa che non può fare, per esempio, con la vendita della nuda proprietà. Può essere utile perché può dare una maggiore agiatezza al pensionato che in questo momento si trova in grosse difficoltà e quindi con questo prestito, che varia poi a seconda naturalmente del valore della proprietà dell'immobile e soprattutto dell'età. Si parte dai 60 anni per arrivare naturalmente fino ai 90 e più è alta l'età e più c'è possibilità di prendere maggiormente questo prestito di danaro. Può essere anche vantaggioso perché può essere considerato un prestito e questo prestito può essere, per così dire, girato ai propri figli, quali magari hanno delle necessità contingenti oppure perché vogliono comprarsi anche loro un appartamento e questo può essere considerato un prestito ai futuri eredi. C'è da fare però un po' di attenzione su questo perché nel momento in cui si dà un prestito al futuro, ai futuri eredi, naturalmente questo prestito se c'è un solo erede non ci sono problemi ma se ci sono più eredi naturalmente questo deve essere suddiviso a secondo naturalmente dei partecipanti all'eredità. Questa è la posizione dei piccoli proprietari, chiedo a Renato Calì la cosa poi fondamentale, chiaramente uno deve avere necessità di questi soldi però poi bisogna andare a fare una sorta di contrattazione con la banca, con l'istituto di credito per trovare un punto d'incontro? Assolutamente sì, perché altrimenti significa che io in stato di bisogno mi consegno e consegno il mio appartamento Il coltello dalla parte del manico c'è la banca? Assolutamente sì, il correntista, il consumatore è il soggetto debole rispetto a questo tipo di situazione. Altro nome che abbiamo sentito riecheggiare, l'ha detto prima il Presidente l'ho ripetuto anche il Segretario Dell'Uppi, la nuda proprietà. Cerchiamo di spiegare, l'ha spiegato lei brillantemente, se una persona che a una certa età decide di vendere quella casa può restare nel proprio appartamento, però può prendere questi soldi se ha delle necessità. È un fenomeno in crescita, Presidente? È un fenomeno in molta crescita, ma è un fenomeno che non ha riflessi negativi come invece può avere il prestito vitalizio. Mi faceva sorridere prima il discorso, pensate come è cambiata la società una volta erano i padri che lasciavano gli appartamenti ai figli, no? Oggi i padri lasciano i debiti ai figli, quindi vedete come è cambiata la crisi, come è stravolto anche il mondo dell'immobiliare. Mentre la nuda proprietà ha una caratteristica, io vendo un immobile ma non il diritto di abitarmi. Il diritto di abitazione me lo tengo per tutta la vita. Quindi ci sono poi delle scalette, diciamo, di sconto di prezzo in base all'età del cedente e allora quello è un contratto sano perché permette poi di fare i conti effettivamente con... Si vede a qualcuno, chiaramente in base all'età, è fondamentale l'età. Insomma, uno più già avanza... Più l'età è alta e naturalmente ha... Le aspettative di vita sono più basse. E meno guadagna. Se invece l'età è più... E più guadagna. Se invece l'età è più bassa, naturalmente dal 100% ci saranno degli sconti maggiori sul prezzo. Melania. Sì, Giuseppe, c'è Antonio da Perugia che ci ha scritto. Lui chiede, siamo poi sicuri che le banche concedano questo tipo di prestito vitalizio visto che sono sempre così restie a concedere mutui? Lo chiediamo al segretario dell'Adi Consum. Soprattutto si è rivitalizzato un po' questo settore perché, insomma, per tanto tempo abbiamo descritto, abbiamo raccontato in televisione, sui giornali, le coppie andavano, le giovani coppie andavano in banca e chiedevano un mutuo. Bisognava aspettare garanzie, le garanzie dei genitori, dei nonni, bisognava portare di tutto per avere un mutuo. Ora è cambiato qualcosa? E poi, insomma, le banche, rispetto a queste novità che ci sono, sono attente? Bah, secondo me sono molto attente a fare, come dire, operazioni di mercato, operazioni finanziarie, perché, come dire, acquisire un appartamento che vale 100 con un prestito di 40, di 30, perché valgono le stesse regole del mutuo e dell'età da questo punto di vista. Più sono anziano, minore l'aspettiva di vita, meno ti do da questo rispetto a queste cose. E quindi sono molto attente. Dovrebbero essere, invece, molto più attenti a far ripartire il mercato rispetto nei confronti delle aziende, nei confronti delle giovani coppie, nei confronti di chi è di un mutuo e tutti i requisiti per poterlo avere. Su questo dovrebbero essere molto attenti. E allora, questo dato che è uscito pochi giorni fa, si riprende il mercato immobiliare, si valorizza nuovamente il prezzo delle case, è reale? Se non c'è dietro questo mondo bancario che dà una mano, dà, in qualche modo, tende una mano a chi vuole comprare casa, come escono fuori questi dati? Diciamo che oggi le banche, per quanto riguarda i mutui, hanno riaperto i cordoni della borsa, non come nel 2006, nel 2007, ma c'è la volontà. Chiedono però sempre tante garanzie. C'è la volontà. Ma veda, io penso questo, le garanzie ci vogliono perché poi le banche fallistono. Adesso non voglio girare il coltello nella piaga con banca Marche e tutte queste attività. Però spesso con delle persone che hanno dei contratti di lavoro discontinui diventa... Certo. Allora, il tema qual è? Le banche hanno allargato i cordoni della borsa, ma sicuramente vogliono indietro i propri soldi. Quindi non siamo tornati al credito facile di una volta. Le banche subiscono un problema serio anche di ritorno dei prestiti che hanno fatto in giro. C'è un contenzioso molto alto che poi si riverbara nei bilanci. Quindi diciamo che però questa ripresa che c'è stata è stata dovuta, questa lieve ripresa è stata dovuta. Da un calo dei prezzi oggi è conveniente comprare casa perché veramente abbiamo dei prezzi bassissimi. Di quanto sono scesi mediamente? Ma guardi, dal 2007 ad oggi il calo medio delle abitazioni in Italia è stato circa del 30-35%, con picchi fino al 60% nelle periferie. Perché quando si parla di immobiliare siamo abituati a parlare di Roma, di Milano, delle grandi città. Oggi ad esempio a Milano e Roma i prezzi si sono stabilizzati. Il calo continua dei prezzi nelle periferie. Le vendite sono aumentate leggermente, pensi che l'anno scorso abbiamo chiuso circa 410 mila compravendite. Quest'anno, pensiamo nel 2015, di chiudere sulle 430-435 mila compravendite. Quindi un dato leggermente positivo a cui ha contribuito il calo dei prezzi, una voglia delle banche di fare mutuo. Naturalmente i dati che dà, noi contestiamo i dati dell'ABI che dice che hanno aumentato del 92% le erogazioni. Quelle sono le surroghe, no? Però oggi è tornato il momento di investire. La surroga, dopo facciamo spiegare anche... È tornato il momento di investire e soprattutto si trovano buone occasioni. Anche nel fatto che la gente oggi, noi non lottiamo nelle agenzie, è molto preoccupata dal mettere i soldi nelle banche. Perché con il bail-in oggi hanno un qualche problema. Se posso aggiungere rispetto, volevo aggiungere, secondo noi, un altro dato importante. Uno era questo qui, come dire, del mettere i soldi su un investimento certo, visto anche quello che è successo in questi ultimi mesi. Ma seconda cosa, anche le disposizioni del governo, le leggi del governo, che hanno a che fare con le ristrutturazioni, con l'eco-bonus, ha incentivato anche qui, come dire, l'acquistare un appartamento a prezzi di mercato favorevoli da questo punto di vista. Segretario, lei che rappresenta i consumatori, questa parola che ha pronunciato il Presidente Righi, le surroghe. Spieghiamo un po' ai telespettatori perché sono importanti per il telespettatore, magari, che ha un mutuo. Tantissimi avranno un mutuo ancora da pagare. Perché è possibile cambiare banca, cioè, insomma, bisogna un po' fare i giri dalle banche e ottenere lo stesso mutuo da un'altra banca. Poter portare il tutto in maniera gratuita, lo ricordiamo sempre. Assolutamente sì, vuol dire esattamente questo. Trovare situazioni più convenienti. Trovare situazioni più convenienti rispetto, come dire, a mutui che ho fatto in passato e che si sono rivelati, poi, alla fine, non convenienti. Per motivi diversi, dai tassi al fatto che è cambiato, come dire, la prospettiva di economia e quant'altro. E quindi, come dire, ho la possibilità, e questa è una grande conquista che va sempre sottolineata, ho la possibilità, a costo zero, di poter trasportare il mutuo presso qualunque altro istituto bancario. Chi compra una banca? Chi compra una casa? Chi compra una banca è complicato. Ma se abbiamo un nostro telespettatore... Qual è il mutuo migliore in questo momento, Presidente Righi? Ma, guardi... Visso, variabile, con un capo, con un tetto... Tutti consigliano sempre il variabile, oggi, perché è il più basso e dicono che nel futuro non si alzeranno mai i tassi. Allora, io consiglio di fare sempre il fisso o con l'opzione, cioè variabile e fisso, perché per un dipendente che ha uno stipendio, e che sarà sempre quello, presumibilmente, è importante avere una rata fissa, perché i conti si fanno tutti i mesi. Quindi, o un fisso o un variabile con la possibilità di trasportarlo al fisso, quindi di cambiare... Con l'opzione. Oppure, altrimenti, un fisso immediatamente. Per evitare tante oscillazioni. Melania. Giuseppe, abbiamo un telespettatore in linea, si chiama Franco Michele e ci chiama da Napoli. Pronto? Signora, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera a tutti, comunque. Signora, io sono stato in America, tempo... Mi sente? Certamente, prego. Dunque, io sono stato in America, tempo fa, e ho una cugina che ha avuto un problema simile. Dunque, lei si è recata in banca, la banca ha fatto una valutazione dell'immobile e in base alla valutazione le hanno dato un appannaggio mensile, vita natural durante. Nel momento in cui lei non ci sarà più, verranno chiamati gli eredi a cui si sottoporrà l'eventuale riscatto della casa. Se sono d'accordo è bene, altrimenti la banca provvederà a vendere e quindi incamererà quello che ha versato. Perché non si può applicare la stessa cosa in Italia? Io credo che sia fattibile la situazione. Grazie, grazie, grazie. Mi sembra, lo chiedo al segretario da Di Consum, mi sembra che sia stato applicato in qualche modo in Italia. Si è arrivato anche in Italia. Il problema, chiedo, ma non si potrà creare una litigiosità infinita? Perché poi non sarà facile districarsi tra la banca, i figli, un domani, altre persone... Io vorrei usare un paradosso all'incontrario, visto che si parlava degli Stati Uniti. La crisi è nata anche sulle bolle immobiliari. Corriamo il rischio che alla fine di questa cosa qui, se io non ho i miei figli, non avessero i soldi per poter riscattare l'appartamento, abbiamo una bolla immobiliare all'incontrario, tutti in capo alle banche, perché non sono capace a quel punto di poter vendere tutta quella proprietà immobiliare con la quale si ritrovano dentro, in pancia, nel mercato. E quindi drogano il mercato se vogliono vendere. Quindi abbassano ulteriormente il volume delle offerte. Vedo tante luci rosse sul computer, sul tablet di Melania, tante persone che ci scrivono. Melania, prego. Sì, sì, un messaggio in segreteria di Andrea, di Urbino. Lui dice, visto la posizione critica dei vostri ospiti, mi spiegate allora quali sono i vantaggi della nuda proprietà? Il vantaggio della nuda proprietà è molto chiaro. Io decido scientemente cosa voglio fare della mia casa, se vendere la nuda proprietà oppure no. Chiamo i miei figli, facciamo un discorso e ci muoviamo in un determinato ambito. La vendita della nuda proprietà non prevede nessun ingresso o accesso della banca. Io so esattamente la somma di cui posso disporre, che è una somma molto più alta. E quindi non avrò in futuro problemi di richieste delle banche ai miei figli, a cui lascio sostanzialmente un debito, no? Che poi si risolve col fatto che la banca dice tu non mi vuoi pagare e facciamo questa cosa. Infatti il problema del prestito vitalizio è che noi lo ritorniamo un... L'ultima spiaggia per chi, come diceva bene prima il segretario generale, ha bisogno... Mettiamo un valore di 100 mila euro dell'appartamento, ha bisogno di 30-40 mila euro perché non sa cosa fare. Allora il problema è che quei 30-40 mila euro, se uno l'età media si è alzata, se finiscono quei 30-40 mila euro è finita la vita di una persona. E la banca naturalmente in determinate condizioni può anche riappropriarsi del bene. Allora quello che noi diciamo è che la nuda proprietà andava defiscalizzata, andava aiutata la nuda proprietà, cioè dare dei vantaggi sulla nuda proprietà, che è un negozio giuridico che noi conosciamo benissimo e che dà molte più certezze. Segretario, non ci sono troppi strumenti sul mercato? Non si rischia in qualche modo di disorientare la persona che vuole fare un acquisto o vuole vendere casa? Perché un tempo c'erano poche tipologie, ora si stanno fiorendo tutte queste tipologie, però non si rischia un po' di creare caos. Assolutamente sì, e ritorniamo a un tema caro ad AdiConsum in particolare. Bisogna continuare a fare educazione, educazione, educazione su questi temi. Perché altrimenti, come dire, si è nudi di fronte alle leggi della concorrenza, chi la sa di più e si è poco informati. E allora tiro fuori un altro termine, che è un termine inglese, e ce lo spiegherà ora il Presidente, perché è un'altra formula possibile per comprare o vendere casa. Si chiama rent to buy, che chiaramente sono parole inglesi. Presidente, possiamo spiegare in un minuto, poi vedremo una storia, di una persona che è riuscita attraverso il rent to buy a vendere la propria casa, che non riusciva a vendere. Ma che cosa vuol dire rent to buy? Allora, è affitto con riscatto. Che cosa accade? Che se io in questo momento non ho abbastanza denaro, cittadino, abbastanza denaro, per andare a dare una caparra, quindi non può fare un contratto, no? Non può neanche accendere un mutuo. Mi piace una casa, ma non la posso comprare. Non la posso comprare. Allora cosa faccio? Vado dal proprietario e gli dico, guarda, mi tieni in affitto per due o tre anni. Nel frattempo, una quota di quell'affitto che io ti do, la computi a caparra. Fissiamo già il prezzo. Fra tre anni, io mi sarò fatto una scorta di risparmio, oppure tu avrai avuto una somma di caparra. Ho migliorato la mia carriera lavorativa. Esatto, e quindi io potrò accedere a un mutuo. Quindi è una parte di affitto, è una parte poi che si conclude e sfocia nella vendita. È un aiuto importante fino ad ora per chi non aveva grosse somme di cui disporra. In pratica però il proprietario, chi vende questa casa, non potrà avere i soldi subito. No, assolutamente. Se la casa vale 200 mila euro, no, dovrà avere una sorta, verrà parcellizzato. Esatto, ha una parte di affitto e una parte di caparra. Quanto tempo per un contratto del genere è possibile andare avanti? Si fanno contratti per dieci anni, cinque anni? No, di solito i proprietari che vogliono vendere, che aiutano, fanno contratti da due, tre, massimo quattro anni, perché poi altrimenti diventa qualcos'altro. Ma la legge prevede anche, siccome non c'è una norma ben precisa, gli accordi tra le parti possono prevedere anche quote di affitto più alte, dilazionando il momento del rogito. E allora vediamo la storia di questa signora, di questa signora che ha deciso, a un certo punto aveva questa casa, non riusciva a venderla, ha deciso di venderla con questo rent to buy. Vediamo il suo giudizio. Maria Domenica Simone, lei ha una casa a Vercelli, ha deciso di farla, di venderla con questo meccanismo del rent to buy. Perché questa scelta? Ma una scelta è stata casuale, nel senso che avevamo trovato un acquirente, dopo tanto tempo per la crisi che c'è, inutile dirlo, che aveva valutato la casa, gli piaceva moltissimo, ha valutato la casa, secondo noi, in un giusto modo, con un giusto valore, ha provato a rivolgersi alle banche per avere il suo finanziamento, le banche chiaramente gli hanno proposto un'ipotesi, il finanziamento dell'80% dell'immobile, l'immobile, la signora al momento non aveva l'immediata disponibilità dell'altro 20% e quindi con molta difficoltà mi ha detto non ce la faccio, non ce la posso fare. Io ho parlato con il mio notaio di fiducia, insomma con un rammarico di non poterla aiutare e lui mi ha proposto questa vendita, questa possibilità, questa nuova possibilità. Ne ho parlato alla signora e abbiamo iniziato questo percorso che si sta per concludere. Con l'acquirente avete stabilito dei tempi per il passaggio della casa? Sì, 5 anni al momento siamo sull'idea, cioè lei prenderà, diciamo, tra virgolette in affitto la casa per 5 anni e al termine si riserverà perché sappiamo che da parte mia è una vendita fatta, nel senso io non posso tornare indietro dalla vendita. Ma la signora volendo può non recedere, però non credo che lo farà perché è estremamente interessata. Siamo arrivati a questo proprio per cercare di poterla aiutare. Io faccio il medico per cui è anche un modo che ho trovato per venire incontro a una persona in un momento di crisi. Tutto sommato il prezzo era congruo, perché non farlo? L'unico svantaggio forse per me è attuale non disporre immediatamente del prezzo dell'immobile, però è un'opportunità secondo me molto valida. Segretario Cali, ci sono dei rischi facendo il tutto? Poi lo chiederò anche al Presidente della FIAIP, facendo un'operazione del genere? I rischi dipendono sempre dalla possibilità di ripensamento, ma a me sembra un'ottima formula per la verità, che riprende un valore, perché noi dobbiamo anche regolare il sistema di valori, che è quello della solidarietà, cioè del fatto che due delle persone che hanno teoricamente interessi contrapposti trovano una soluzione che va incontro all'una e all'altra e soddisfa e favorisce entrambe da questo punto di vista. Presidente, quali sono i posti che può essere un tranello? A cosa stare attenti rispetto a questa formula? Stare attenti a questo. Siccome il rent to buy non è un unico negozio giuridico, cioè non è un'unica cosa, racchiude due attività, la locazione e la promessa di vendita. Se l'inquilino, con tutta la più buona volontà, nel corso del periodo locatizio non dovesse pagare, ci sono problemi seri che sicuramente poi non comprerà. Ma poi anche tutti, come ben sappiamo, i canoni non pagati verranno imputati nelle tasse. E poi c'è il problema anche della fuoriuscita, insomma, diciamo... Quindi ci vorrebbero paletti un po' più rigidi per... Noi abbiamo detto più volte che il rent to buy è una grande cosa e concordo con il segretario generale, ma la necessità è quella di trovare un unico negozio giuridico che forse il governo ha trovato in quest'ultima finanziaria con il leasing immobiliare. E allora poi ci spiegherà che cosa è il leasing nella parte finale della trasmissione, ma vedo che ci sono dei telespettatori, c'è un telespettatore in attesa, vero? Esatto, è una signora e la signora Marzia che ci chiama da Cosenza. Pronto? Sì, buongiorno. A lei, buonasera signora, prego. Buonasera. Dunque, io sono interessata alla vendita della nuda proprietà. Ho 67 anni e ho saputo che esistono delle società, dette in generale i fondi comuni, che potrebbero acquistare la nuda proprietà dei privati, è vero? E quali sono? Vediamo di darle una risposta, Presidente. Io la invito a guardare su internet, a chiedere, io sicuramente non farò mai il nome di società private che acquistano, però su internet o rivolgendosi a qualsiasi agenzia immobiliare... Ormai è molto diffuso. Oggi, siccome è molto diffuso, anche del proprio paese, voglio dire, senza cercare fuori regione o in Italia, è possibile trovare acquirenti per la nuda proprietà. Segretario, arriviamo a questo leasing immobiliare. È qualcosa di positivo, di negativo? Qual è il vostro giudizio in merito? Allora, è sicuramente un fatto positivo. Vorrei però sottolineare una criticità, che nel meccanismo, per cui c'è il meccanismo della detrazione fiscale, però ci sono fasce d'età e fasce di reddito da questo punto di vista, sono differenziato anche a secondo dell'età, la durata del leasing generalmente non copre la durata del mutuo. E questo è un fatto, come dire, che va sanato, perché altrimenti si rischia di azzoppare uno strumento che può diventare importante per l'acquisto della prima casa o delle abitazioni in genere. Presidente, perché si differenzia il leasing immobiliare rispetto a queste altre formule che abbiamo visto? È l'ultima che ci siamo attenuti proprio per discuterne, perché è qualcosa di recente, recentissimo, provato dall'esecutivo. Sì, questa cosa invece è molto intelligente, perché sostanzialmente il cliente, l'acquirente, si reca, cerca il suo appartamento, quello che gli piace, ne tratta il prezzo e poi va da questa società di leasing. La società di leasing fa un contratto con l'acquirente e praticamente uno paga delle rate, come d'affitto. Chi compra l'appartamento? La società di leasing. Poi, naturalmente, siccome i decreti devono ancora uscire, io quindi starò in affitto per un certo periodo, un affitto, diciamo, pagando il mio possesso, come nel leasing normale, alla fine del mio contratto di massimo 20 anni oggi, e qui chiederemo anche noi che venga allungato, potrò riscattare l'appartamento, cioè comprarlo anche ricorrendo al mutuo. Quindi che cosa succede? Succede che in realtà il venditore, nel caso della dottoressa di prima, se avessi applicato il leasing immobiliare, il leasing avrebbe sicuramente comprato la casa, la dottoressa avrebbe risolto il suo problema e poi sarebbe stato tutto molto più semplice. Quindi sono strumenti che spesso si somigliano, per questo è importante quello che diceva il segretario di Consum informarsi. Le chiedo, Calì, lei ha esordito con un aspetto molto bello, perché ha detto la casa, cioè gli italiani sono il popolo che ha sempre questo desiderio, dal primo posto c'è la voglia di una casa, ma era anche un modo per tramandarlo da padre in figlio, a un nipote, a un parente, era qualcosa di bello che si tramandava. Si rischia così di polverizzare un po' tutto? Stiamo polverizzando un po' tutto con tante formule? Peraltro necessarie, mi rendo conto, perché ci serve un'evoluzione. Però l'aspetto dei valori che ha detto all'inizio, in un minuto perché abbiamo anche una telefonata. Sì, io riconfermo quelle cose e sottolineo che per esempio il ruolo degli agenti immobiliari è fondamentale dal punto di vista, perché abbiamo sempre in tutti i settori tanti strumenti, una batteria di strumenti che possono essere attivati da questo punto di vista. Educare, quindi non solo i consumatori, ma assieme gli agenti immobiliari, le agenzie immobiliari, nel trovare la formula più adatta a quello che è l'esigenza dell'utente in quel caso, può diventare un fatto fondamentale. Stanno diventando desarti, possiamo dire. Gli agenti immobiliari come un sarto, deve fare un vestito su misura in base alle esigenze della propria vita e del proprio percorso di vita. Melania. Abbiamo una telespettatrice in linea, la signora Dora, ci chiama da Napoli. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, prego signora Dora. Sì, pronto, buonasera. Volevo chiedere, in merito ai limiti che pongono le banche, quando si vuole rimborsare un mutuo parzialmente, perché? In che senso, signore? I limiti? Perché non permettono di fare un rimborso parziale se non prima 18 mesi o 24 mesi. È chiaro? Grazie. Allora, è così? Se è possibile rimborsare? Sì, sì, lo dico velocemente. È così e ci sono anche delle penali capestro, se paradossalmente voglio anticipare, come dire, la scadenza, voglio anticipare la sedicosa. Grazie ai nostri ospiti, grazie al segretario nazionale dell'Adi Consum, Renato Calì, grazie al presidente nazionale della FIAPI, la federazione italiana degli agenti immobiliari, Paolo Righi. Torneremo a parlare di casa, è un argomento dove arrivano sempre tantissime telefonate, tantissime email e poi ci sono tanti telespettatori che ci guardano. Esatto, esatto, Giuseppe. Ci scusiamo con quelli che ci hanno scritto su Facebook e non abbiamo potuto rispondere alle loro domande. Salutiamo calorosamente la signora Edda che ci segue ogni sera ed è la nostra fedele telespettatrice, oltre che cara, insomma, al nostro studio. Vi diamo appuntamento a domani ore 19, torneremo a parlarsi, parleremo di sovraindebitamento e di usura, due fenomeni tristemente noti della nostra società, effetto, insomma, di questa crisi economica. Ne parleremo domani sera, come sempre, in diretta alle ore 19, quando l'indebitamento spesso rischia di sfociare poi anche in una situazione terribile, quella degli strozzini, dell'usura. Ne parliamo domani sera, grazie a tutti e buona serata.